Ciao Marco, ben ritrovato qua su Radio Rosso Nera, ciao Ciao, ciao, buongiorno a tutti Allora, l'apertura è ovviamente su quello che è successo ieri sera Ti chiedo anche il tuo commento su... In realtà tanto perché si è sviluppato dal commento ai fischi Il commento a chi ha commentato i fischi A chi li ha paragonati al razzismo, eccetera, eccetera Insomma, ti chiedo un po' a te la tua opinione su questo Il paragoni non regge I paragoni... C'è una cosa che accomuna, ma ci arrivo dopo Intanto dico che non è possibile raccontare così Tra l'altro è una bella partita Una partita fra due delle 5 o 6 nazionali che giocano meglio E forse fra le due che giocano in modo più simile a un club Quindi secondo certi canoni, secondo certi... Secondo una certa estetica, un certo stile Probabilmente anche le due squadre che in campo ci stanno meglio A livello di nazionale Quindi tanto è un dispiacere Avere raccontare una partita da questo Poi ha visto insomma Dai 24 mesi al giorno del giudizio si parla per due anni di un contratto Poi va come va e poi se ne parla anche sei mesi successivi Siamo sempre... Il racconto del calcio per me gira troppo intorno ai contratti Che sono tutti sbagliati Ma soprattutto tutti sbagliati Sono sbagliati quelli che vanno a zero Sono sbagliati quelli che si rannovano Sono sbagliati i prezzi dei cartellini È tutto sbagliato Noi abbiamo bisogno di una classe di vicente che si metta lì E faccia delle regole Dove è più facile orientarsi Dove è più facile per i presidenti mettersi i soldi Dove è più facile per i tifosi capire Dove è tutto evitabile Questo è un discorso generale che andrebbe fatto Perché noi dobbiamo ricominciare a raccontare il calcio e le partite Sui fischi, guardate Io ho una posizione Questo è un paese tremendamente tifoso È un paese tifoso È un paese di tifoserie In tutto, anche nel calcio E così anche quando gioca la nazionale Tu vedi la maglia azzurra Però siccome abbiamo quegli occhialetti Che vendevano nell'intretto negli anni 80 In 3D, si vede sotto Quelle vedevano sotto i vestiti delle donne O attraverso i muri Perché te li vendevano sempre a sfondo erotico Non te li vedevano mai a sfondo Ti dicono prendi e li vedi attraverso i muri Chissà cosa dovevi vedere attraverso i muri E quindi noi con questi occhialetti Siccome siamo un paese di tifoso Vediamo anche la maglia sotto E quindi poi in nazionale Ognuno ha i suoi beniamini E ogni tanto vede il club Vede il club d'appartenenza Vede il club tradito Quindi io l'ho chiamato I fischi da educazione deviata Perché questo è un paese Che c'è il tuo caso a tifare C'era una fila stocca di Gianni Rodari Molto bella Il cielo è uno solo Ma la terra è a pezzetti Diceva ditemi voi In proso, in versetti Perché il cielo è solo uno Ma la terra è a pezzetti L'Italia è un paese della terra a pezzetti E noi usciamo E siamo stati educati così Quindi richiamo fischi di un'educazione deviata La puoi anche chiamare maleducazione Io sono sempre andato allo stadio E mi sono sempre disinteressato Dell'arbitro, dell'avvertario Sono sempre andato a tifare Non a consotifare Non a fischiare Non a contestare Guardate che Ora hanno fischiato Perché in questo momento L'hanno visto come uno Che se n'è andato Ma spesso si va a tifare Anche la nostra quadra Se perde Se è in crisi No, è come Tu sei in crisi nella vita Esci di casa E uno ti contesta Ma poveraccio Sei già in crisi di tuo Esci di casa E trovi uno Che ti contesta Oppure vai a dare un amico Quando vai al tuo stadio A giocare davanti ai tuoi tifosi Pensi di essere A casa tua Tra i tuoi amici E ti fischiano Tu esci di casa In conti di un amico Gli dici Guarda sono in crisi Ho dei problemi E questo ti offende Uguale Quindi io non ho questa educazione Ma li chiamo fischi da Educazione deviata Da tifo Questo è un paese di tifoso Che non c'entrano nulla Con lo sconcio di ieri sera Lo sconcio di ieri siano Siano stati fischi all'inno Quelli sono fischi da ignoranza Ed è una cosa peggiore Ed è incredibile Che stiamo a parlare Di fischi di una Roma Quando invece i fischi Ai dinni Quelli sono proprio Veramente ignoranti Quelli sono invece Da mondo Non da paese Non è un problema Solo dell'Italia Due mesi fa Eravamo vittima Di questi fischi Da un mondo Che tollera l'ignoranza Perfino guarda La carezza Perfino la coccola Perché siamo In un mondo In cui abbiamo bisogno Di clienti Di elettori E quando hai bisogno Di clienti Di elettori Lo scemo Vale come l'erudito L'ignorante Vale come quello Che le cose le sa E quindi vanno tutti bene Quindi le hai coccolati tutti E ci ritroviamo Un po' più ignoranti Di come dovremmo essere Quello è stato lo sconcio Di ieri sera Non Donnarumma A proposito di Milano Invece Marco Ti ho letto Su Dichiarazioni Favorite Per lo scudetto Chi Come Quando Hai detto Napoli E subito dietro Le milanesi Perché il Milano È uno spettacolo È un progetto Anagrafico E i giovani Sono migliorati tantissimo Io su questo Volevo chiederti È un discorso Un pochino più lungo Rispetto a Hai fatto bene Cinque partite Hai fatto male Cinque partite Il Milano Sta cercando di fare qualcosa Di un pochino più lungo respiro Cosa ci vedi di buono in questo? Il Milano È una squadra grande È una squadra grande Cioè È riuscita Facendo le cose di squadra A diventare grande e forte E adesso sta diventando Anche una grande squadra Cioè fatta di grandi giocatori Che giocano insieme Ma lei ha cresciuti Facendoli giocare insieme Con un'idea Con delle scelte Con un Con un allenatore Con una società Che hanno creduto In quello che stavano facendo L'hanno protetto Quando Potevano cambiare Io quando vedo Che in campo Ci sono quattro giocatori Che il Milano Ha comprato lo scorso anno Avevano intorno a vent'anni Da Salemache SD Aspettonali Le auto Addirittura L'anno prima E che Questi hanno vissuto Momenti diversi Ma il Milano Non li aveva comprati subito L'aveva presi Come si prendano oggi Intanto lo prendo Poi vediamo se lo discatto Poi vediamo E poi ha deciso Di tenerli tutti Poteva anche benissimo Liberarsi di tutti Li ha tenuti tutti Nonostante non avesse Prove definitive Le avevano loro Le aveva la competenza Che gli aveva scelti Dirigenti Allenati Pioli E ci hanno visto lungo Questo è progettare Progettare E come hai difeso Pioli Quando Ricordati Sì Poi hai difeso Anche i giocatori Che ti sei scelto Hai difeso Leao Da un pubblico Che non capiva ancora Qual era l'aggettivo Definitivo Magari ancora Non l'ha capito Hai difeso Tonali Quando sembrava Succube Del suo innamoramento Per questa squadra Hai difeso Dias Hai fatto il contrario Di quando Ti sei liberato Dei Suso Dei Paquetà Poi anche Dei Cialanolus Dei giocatori Equivoci Che Pretendevano tanto Che determinavano Un modo di stare in campo Ma non ci hai visto Lo sviluppo E il Mila Ha fatto delle scelte giuste E anche se non erano Giustissime Le ha difese E le ha fatte Diventare giuste Però mi permette di dire Che dentro questo modo Di giocare Che è veramente bello Esaltante Moderno Veloce Solidale Si cresce Si migliora Io ho usato L'ultima L'unica volta Abbiamo avuto Il Milano in diretta Ho usato Una pagina Di Margherita Jutten L'ultima pagina Delle riflessioni Di Ariano Dell'imperatore Che in punto di morte Fa un po' il bilancio Della sua vita E si E si chiedeva Se era stato bravo A mettere insieme Tutte le pulsioni diverse La speranza E il rifiuto Della speranza inutile Perché ti fa perdere tempo L'anarchia E l'ordine I piaceri dell'anarchia E i rigori dell'ordine Io ho detto Che il Milan Mi ha ricordato Quella pagina Il Milan È una scelta È una serie di scelte Riuscite Che hanno creato Armonia Fra l'anarchia E l'ordine È una squadra Che è perfettamente Organizzata Eppure sempre Saordinariamente Spontanea Cioè il talento Lo vedi tutto È tutto libero È tutto liberato Eppure è chiaramente Tutto organizzato Quindi la considero Una squadra Bella Proprio bella E trasmette Questo piacere Di giocare Di essere vista E abbiamo visto A Bergamo Anche una cosa Secondo me Da testimoniare Il Milan Trasmette la sua idea Di calcio In tutti i tipi Di situazioni Cioè una volta C'erano delle partite In cui Beh non male C'erano dei momenti In cui devi fare anche Quello che gli altri Ti costringono a fare L'Atalanta Era il test perfetto Quando giovi con l'Atalanta Sapevi che alcuni minuti Dovevi subire Un dia di calcio Io l'altra sera Ho visto per la prima volta Il Milan Per la prima volta Una squadra Andare a Bergamo E impose sempre La sua idea di calcio A proposito di Insomma Imperatore Adriano E quant'altro E Stefano Pioli Forse Chi stava organizzando Tutto questo Chi ha messo in piedi Tutto il progetto Del Milan E lo sta esaltando Perché Molto spesso Tifosi Milan E anche di altre squadre Fanno un appunto Al Milan Dicendo Sembra quasi Che sia arrivato Al top Mentre Molti Altri Tifosi del Milan E non Vedono in questa squadra Ancora molto Potenziale Inespresso E quindi Dovremmo tornare Sempre a chiedere A Pioli Ancora un miglioramento Che tipo di squadra Stai vedendo Ancora Potenziale Oppure no Partiamo da questo Facciamo un attimo Di autoanalisi Che per certi reti Per certi reti Io ho superato Nel senso Che conosco Pioli Da qualche anno È uno dei pochi Allenatori Con i quali Ho anche il piacere Di avere un rapporto E la prima volta Che lo vedi Gli testimoniai Tutta la mia stima Perché lo sentivo Sottovalutato E gli disse Per me Tu stai facendo Capolavori Ma la gente Non li vede E non era ancora Venuto al Milan Però vi domando a voi Il vostro giudizio Su Pioli È cambiato Da quando è arrivato Al Milan Sì Assolutamente Sì È così È uno dei giudizi Sugli allenatori Che è più Clamorosamente cambiato Nell'immaginario Vosso Di tifosi Ma anche Secondo me Negli opinionisti Pioli era quello Sì Bravo Però Troppo buono Bravo Il primo anno Ma il secondo Poi Una serie Di Di luoghi comuni E cose Intanto Se uno è troppo buono La bontà È un pregio Uno è buono È meglio Che sia buono Troppo buono È un gran pregio Pensa cos'è L'opposto Poi faceva bene Il primo anno Non lo so Io so che L'ultimo grande Campionato della Fiorentina C'era Pioli La Lazio ha fatto Dieci anni Di ottimi campionati Ma terza C'è arrivata una volta Solo E c'era Pioli Al Milan Ha migliorato Una squadra Che 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 Si era avvicinata Al vertice Con lui Si è conficcata Dentro il vertice Se mi dici Se ha maggio Il miglioramento Intanto È un allenatore Che continua A aggiornarsi A spingere Anche su se stesso Ha ammesso Che lavorare In una società Come il Milan Tante situazioni Che lo hanno migliorato Intanto È un allenatore Che offre Ai suoi giocatori La condivisione Del lavoro Per migliorare Anche se stesso No Fidatemi Fidatevi Che migliorate Aiutiamoci Che miglioriamo Secondo me È un ottimo modo Di dialogare Poi Una squadra Che in campo Continua a avere 4-5 giocatori Under 21 Certo che ha Grandi margini Di miglioramento Certo Per forza Infatti è una squadra Che sta continuando A migliorare Io mi domando Anche Praticamente Come Sono anche Molto affascinato Da questo fatto Che è una squadra Che aveva preso Giroud Per avere sempre Un certo tipo Di centravanti Quando mancava Ibra Poi si è ritrovata Punti a capo Cioè A non avere Un certo tipo Di centravanti E gioca anche meglio Quindi è anche Una squadra Che supera Insieme Dei problemi Cioè Il Milan Ha scelto Giroud Perché Con Ibraimovic Facciamo Un certo tipo Di calcio Ma Ibraimovic Ci potrà dare 15 partite Magari 20 partite Secondo me Poi magari Non ci arriva Nemmeno a queste Prendiamo Giroud Che ce ne dà Altre tante E abbiamo sempre Un certo modo Di giocare Non c'è stato Verso Hanno giocato Tre partite Ma il Milan Va anche più forte Cioè È una squadra Che supera I problemi Perché ormai È un grande collettivo E questo Secondo me È una qualità Mentale Ormai Dell'organico E quindi Allora Sono giovani Sono tecnicamente Forti Stanno dimostrando Di stare bene insieme Hanno mentalità Cioè Hanno quelle caratteristiche Che ti portano A sfruttare I giorni di lavoro Le partite Per migliorare Perché Comunque Un atleta Che ha queste qualità Non solo tecniche Ma anche mentali Di 21 anni A 25 È sicuramente migliore Sta succedendo questo Nel campion italiano Che si è meglio Ora di 4 anni fa Varela è meglio Ora di 3 anni fa Chiesa è meglio Oggi di 3 anni fa Ti sto parlando Di tutta gente Che ha 24 25 26 anni Che è meglio Di quando ne aveva 20-21 Quelli del Milan Sono under 21 Ultima Che è meglio Che è meglio